Inventato nel 2013, questo nuovo trick è di estrema difficoltà di esecuzione e ha un alto rischio di fallimento. Ma quando il trick riesce, i secondi nei quali Revolution è in Fade e Dark Side, si prova una vera scarica di adrenalina. Fare una picchiata, dopo aver oltrepassato il centro della finestra del vento, dare un colpo secco di freni di giusta intensità e subito dopo rilasciare i freni. Appena il rev si mette al contrario in Fade, fare qualche piccolo passo in avanti e o indietro, cercando di mantenere per il più tempo possibile la Quilone nella posizione di Fade e Dark Side. Alla fine dare un colpo secco di freni. Vediamo l'errore. Picchiata. Colpo secco di freni troppo forte. Il bordo d'attacco si inclina verso il terreno e l'Aquilone cade a terra con i cavi attorcigliati attorno. Il bordo d'attacco si inclina verso il terreno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.